Avrebbe compiuto 25 anni tra una settimana il giovane detenuto palermitano che ieri mattina intorno alle 7.30 si è tolto la vita nell'ottavo reparto del carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto annodandosi una camicia intorno al collo. In quel reparto destinato all'articolazione mentale non è la prima volta che si verifica un dramma simile. Per il giovane detenuto era stata disposta la sorveglianza vista con agenti. Prima del suicidio del giovane ci sono stati episodi di violenza nel fine settimana. Nella serata di venerdì un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, un altro ha tentato di incendiare i suoi vestiti. I sindacati si sono fatti sentire rivolgendosi ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e all'assessorato regionale alla salute. In particolare la FPCGL ha affermato che dopo gli ultimi episodi non si può nascondere la testa sotto la sabbia ed ha evidenziato che nel carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto esiste una situazione al limite dell'esplosivo, frutto dell'indifferenza generale. Inoltre viene sottolineata la situazione dei detenuti costretti nella sezione tutela della salute mentale che dovrebbero essere presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale non trattati da normali detenuti. Urge quindi un protocollo tra amministrazione penitenziaria e regione ASP per affrontare in modo serio il problema.